20 anni fa il 25 gennaio 2003 su quello che era all'epoca il tracciato ferroviario della linea adriatica perse la vita Donato Iezzi sindaco di Torino di Sangro 34 anni sposato con tre figli molto piccoli era su questo ponte che in una settimana segnata dal grande maltempo e questo ponte era minacciato dall'alluvione Iezzi era qui per verificare la tenuta del ponte ma proprio in quel momento passo un treno intercity che lo travolse in questa giornata la sua comunità di Torino di Sangro e Lancia Abruzzo lo hanno ricordato con una cerimonia divisa in più parti e che ha coinvolto tante tante persone. Oggi come 20 anni fa era una giornata brutta con la pioggia con l'allivore e quant'altro io personalmente con lui condividevo tanti progetti non ero sindaco ma per me era un fratello un amico e mi dava quella sicurezza che oggi i sindaci devo dare a tutte le comunità oggi mi ritrovo non volendo da sindaco e commemorare la sua giornata ricordarlo quell'esempio di umiltà che ci ha trasmesso la comunità una comunità sempre che lui ricorda in tutti i momenti nel bene nel male è stata toccante dopo 20 anni anche per me sembra ieri e mi dà forza di andare avanti e voglio ringraziare tutti i miei colleghi sindaci che oggi hanno onorato la sua figura. La sua giovane vita perché è morto solo i 34 anni e comunque è riuscito a trasmettere l'amore per la fascia tricolore l'amore per il comune l'amore per la sua comunità. Allora lui era un ragazzo che trascinava tutti io avevo 25 anni e facevo il presidente dell'associazione calcio e stavo sempre insieme a lui lui trasmetteva ai sindaci colleghi ma tutte le autorità di competenza regionali provinciali e a quello anche nazionale quell'entusiasmo per la sua comunità una comunità che lui amava che doveva essere sempre presente. Una memoria che ogni giorno nella vita di Torino di Sangro c'è perché la figura di Donato Iezzi c'è stata e ci sarà sempre. Ogni mattina nel nostro sveglio c'è sempre la sua figura e quindi non è solo oggi che lo ricordiamo ma lo ricordiamo tutti i giorni e io ogni giorno vengo qua al cimitero faccio un giro di tutte le persone che abbiamo perso nel mio cuore e passo anche da lui a salutarlo. Il gruppo comunale di protezione civile di Torino di Sangro è intitolato Donato Iezzi che ha perso la vita proprio nell'espletare le sue funzioni di protezione civile. Che esempio è per voi portare avanti il vostro servizio nel suo ricordo? Allora per noi intanto come cittadinanza lui ha dato un esempio di devozione proprio a questo paese e per noi è sicuramente motivo di orgoglio portare il suo nome sulle nostre divise e inoltre c'è il figlio Damiano che è un nostro volontario che sta studiando all'Aquila proprio la facoltà di protezione civile quindi siamo doppiamente orgogliosi di questo e Donato penso che sia stato il massimo esempio di protezione civile che ci potesse essere in questo paese. ha dato la vita per questo paese nel vero senso della parola e per noi diciamo che è stato quasi un obbligo intestare il gruppo comunale a lui e ogni giorno quando usciamo a fare servizi siamo orgogliosi di avere il suo nome sulle nostre divise, sui nostri mezzi e tutti i giorni lo guardiamo come un esempio di quello che è la protezione civile. ciao ciao ciao